non vedo l'ora di tornare in studio e ricominciare a scrivere anche se in realtà non ho mai smesso beh comunque è un momento molto bello perché vedo dei numeri enormi che non ho mai visto prima sicuramente l'anno passato è stato un anno già bello rilevante da quel punto di vista però diciamo che con questo Sanremo si è amplificato ancora di più quindi è un momento davvero frenetico in cui appunto sto cercando di come dire sfruttare ogni momento vivere ogni momento legato appunto a portare in giro le mie canzoni a preparare cose nuove sicuramente sto pensando tanto ai concerti io sono sempre alla ricerca di qualcosa di più ma penso che sia il motivo per cui sono qua a parlare con te ecco semplicemente se mi accontentassi non farei le cose che faccio e non mi arricchirei ogni volta non proverei a migliorare ancora non vedo l'ora di tornare in studio cioè questa è la verità non vedo l'ora di tornare in studio e ricominciare a scrivere anche se in realtà non ho mai smesso di scrivere però adesso sono più concentrata su preparare i concerti su portare in giro la mia canzone sinceramente quindi sono concentrata su tante cose insieme non vedo l'ora di tornare in studio perché alla fine di questo percorso bellissimo sicuramente avrò voglia di continuarlo ma magari inserendo qualcosa di nuovo non so ancora che cosa lo scoprirò quando tornerò in studio ciao 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 ciao